In tema di Roma c'è una polemica da qualche giorno tra i due sindaci delle due principali città d'Italia. Domenica il sindaco di Roma, Virginia Raggi, aveva detto che i milanesi invidiano la città di Roma. Oggi arriva la risposta da parte del sindaco Sala che dice a suo giudizio che i milanesi non sono assolutamente invidiosi di Roma e dei romani. Sentiamo. Sindaco, Milano capitale? Se capitale significa l'ambizione a crescere e ad essere città di riferimento sì, però Milano non aspira a titoli e a ruoli formali. Guarda la sostanza e i milanesi sono molto pragmatici. Risponde così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la collega e il primo cittadino di Roma, Virginia Raggi, che qualche giorno fa, parlando della doppia maratona delle due città di domenica scorsa, aveva dichiarato se ci invidiano cosa possiamo fare? Ed è l'idea di far diventare Milano una sorta di co-capitale d'Italia, idea lanciata dal presidente di Asso Lombarda Gian Felice Rocca, che aveva proposto di istituire delle leggi speciali per il capoluogo Lombardo, si è parlato anche nel corso di un convegno. Per Milano deve puntare in primis che ha quattro capitali straordinari, quello scientifico, quello produttivo, quello estetico e quello sostanzialmente del bello e poi il capitale sociale. Questa è una città ricchissima di collaborazione. Quando li mettiamo insieme ci accorgiamo che è una città unica. Non essendo una città grandissima deve poi darsi delle priorità.